ciao benvenuti cari amici di penelope andiamo a vedere le prossime vicende fra lui e lei fra l'uomo e la donna non ho dato non darò i tempi quindi questo video avrà valenza dal momento in cui tu lo vedrai userò alcuni mazzi di carte sono tutte carte create da me i tarocchi le parole d'amore gli oracoli volume 2 è un mazzo nuovo che ho appena fatto questo è il mio mazzo campione lo andremo un pochino a vedere insieme poi più tardi magari tirerò qualche altra carta anche del mazzo che voi conoscete benissimo messaggi lui e lei se hai un interesse per uno insomma per questi mazzi mi puoi chiedere informazioni scrivendomi una mail a le carte di penelope chiocciola gmail.com ma comunque trovi tutto giù nella descrizione del video partiamo subito andiamo a vedere un po che situazione c'è fra queste due persone qual è il momento presente partiamo dai tarocchi poi vedremo con tutte le altre con tutte le altre carte allora fra lui e lei qual è il momento presente ok vediamo qual è il momento presente con i miei tarocchi fra lui e lei qual è il momento presente qual è il momento presente fra l'uomo e la donna fra lui e lei quali sono le energie gli amanti che c'è voglio dire andiamo a vedere gli amanti e sotto il mazzo il 6 di coppe beh qui questo rapporto consolidato sicuramente qui c'è un sentimento c'è un'emozione c'è una passione c'è un desiderio fra queste due persone insomma gli amanti no è proprio la è proprio la coppia io credo che qui ci stiano parlando di due persone che si conoscono già da un po di tempo magari sono anche persone lui e lei che sono tornate insieme o si sono ritrovate dopo un certo periodo di tempo insomma in altre parole quello sto cercando di dire è che secondo me queste due persone non si sono conosciute da non si sono conosciute da poco qui mi parlano le carte anche di cose vecchie quindi qui c'è un qualcuno che magari o è tornato o lo farà a breve perché si parla di presente per presente intendo da ora cioè dal momento in cui tu vedrai il video a un certo lasso di tempo che può essere 20 giorni un mese due mesi dipende insomma io non taglio il tempo con il coltello a meno che non dia una data io allora lì un altro discorso ma qui ho lasciato le carte aperte di raccontare senza dare date proprio per cercare di prendere diciamo quanti più di voi possibili naturalmente ok per carli un pochino tutti ma andiamo per gradi proseguiamo un'altra carta per il momento presente questa mettiamola sotto che fa parte ecco il momento presente fra lui e lei che cosa c'è in essere vediamo al momento presente qui è volato il due a ecco vedi il 2 di bastoni e sotto nel mazzo c'è l'imperatrice allora qui sicuramente vedi io credo che qui questo sia un rapporto del passato e su questo rapporto del passato nel senso che c'è già stato un qualche cosa diciamo io vedo in special modo lei l'imperatrice che ha un rimpianto ha un rimpianto su questa persona quindi qui c'è un po di tristezza c'è un po di malinconia c'è una qualche mancanza potrebbe pure essere che l'imperatrice cioè la donna in questione abbia una rivale in essere non lo escludo affatto perché vedo limitazioni a questo rapporto come se questo rapporto fosse passatemi termine insomma fosse limitato fra virgolette da un ostacolo esterno a voi che non siete voi quindi può essere un'altra donna poi magari per l'amor di dio magari è semplicemente un limite perché vivete lontani potrebbe non che le carte mi parlino di distanza chilometrica fra di voi e non mi dicono questo però mi dicono che ci sono delle limitazioni a questo rapporto questo rapporto non si può vivere appieno passatemi il termine almeno questo è quello che vive la donna l'imperatrice non per colpa sua non per suo volere o per colpa sua ok ma per situazioni o persone esterne a lei quindi già mi dicono e qui c'è una coppia lui e lei che si conoscono da un po che hanno già avuto a che fare che hanno un qualcosa in ballo se vuoi anche e mi fanno vedere che c'è anche però una certa oltre alla passione al desiderio dell'uno verso l'altra c'è anche una come posso dire una certa nostalgia una certa malinconia qui ci si manca c'è un rimpianto c'è un qualcosa nel nostro cuore che rimpiangiamo ora poi andiamo a vedere ovviamente anche i sentimenti sia di lui e di lei e quello che poi accadrà che faranno i due personaggi però diciamo che qui mi partono da una situazione di grande passione desiderio l'uno verso l'altra sicuramente ma anche di una certa nostalgia una certa malinconia ed una certa dose proprio di rimpianto e di tristezza per un qualche motivo ora vedremo cosa accadrà andiamo a vedere il cuore di lui cosa prova questo uomo cosa ha nel cuore lui nei confronti di lei lui cosa prova per la donna lui cosa prova per lei quali sentimenti ha veramente nel cuore per lei ho visto volare a tre addirittura o signore allora l'eremita la stella e l'appeso allora qui vedo che lui è come se dovesse rinunciare a lei sicuramente la vede come una donna bella carina graziosa la vede graziosa dolce una donna sicuramente con cui ha molto feeling non per niente queste mettiamole sotto che sono i due tagli diciamo quindi una donna graziosa molto dolce molto carina intelligente con cui ha un gran feeling questo mi dicono le carte con cui si trova dico si trovava benissimo perché insomma qui vedo l'eremita l'appeso quindi qui sicuramente qualcosa è accaduto con questa donna ma non credo sia stato un allontanamento un silenzio una ritrosia perché non aveva più nulla verso di lei è non non so non non lo penso comunque sia l'idea che aveva che ha di questa donna non è negativa qui è successo qualcosa c'è anche la torre nel taglio è successo un qualcosa anche in modo abbastanza improvviso è secondo me qui ho un litigio un allontanamento improvviso un qualcosa su cui non ci siamo trovati d'accordo una sorta di rinuncia una sorta di dover rinunciare suo malgrado a questa donna non so perché lo vedremo più tardi chiederemo i miei oracoli anche alle carte dei messaggi intanto vediamo lei lei cosa ha nel cuore per questo uomo cosa prova lei verso di lui la donna nei confronti dell'uomo cosa prova per lui lei nei confronti di lui il diavolo il diavolo e nel taglio il 3 di bastoni e si ritorna sempre lì allora qui veramente ci potrebbe essere un triangolo quindi qui un triangolo o comunque un tradimento scoperto ho pensato insomma quando c'è il diavolo insomma un po una cartaccia ok quindi essendo qui nel cuore con il 3 di bastoni eccetera qui mi può veramente parlare di una gelosia di una gelosia anche un qualcosa di ossessivo nel senso se messa in testa una cosa non gliela togli manco lui poi magari ha pure ragione è lei per l'amor di dio ok però voglio dire non gliela togli neanche ma neanche sotto tortura l'idea capito ormai ha messo la testa avanti è così e così è non cambia idea lui mi tradisce lui c'ha quest'altra donna oppure io voglio di più e così è punto ci si muove da lì ora prima di proseguire io andrei a vedere come stavo dicendo con i miei oracoli se ci spiegano un po in inovi che cavolo sta succedendo perché qui ci sono delle emozioni molto molto forti che siano di rabbia che siano di gelosia che siano di separazione che siano abbiamo detto di rimpianto di malinconia andiamo a vedere che cavolo sta succedendo allora vediamo il momento presente nel momento presente abbiamo visto gli amanti con il due di bastoni andiamo a vedere che cos'è questo presente fra lui e lei amanti due di bastoni perché c'è amanti due di bastoni che significato ha amanti due di bastoni fra lui e lei cosa significa non vuole uscire che la dura la vince amanti due di bastoni cosa significa a procedi con cautela passo dopo passo ok le tiro un'altra andiamo a vedere amanti due di bastoni qui si tratta comunque guarda da tutte le parti mi stanno parlando di una situazione vecchia del passato io non credo che questa sia una persona che è conosciuto da poco c'è un forte desiderio e beh vedi però non c'è apertura guarda non c'è apertura quindi e vedi qui mi torna il diavolo nel cuore di lei la vedo abbastanza arrabbiata allora qui le carte stanno parlando c'è senz'altro un forte desiderio fra le due persone che però potrebbe essere tenuto celato dentro un qualcosa che non viene rivelato forse perché le due persone non si stanno sentendo o comunque vedi come qui ci fanno vedere volendo qui ci hanno fatto vedere anche il 6 di coppe no abbiamo visto e la donna quell'imperatrice che era qua sotto apriamole ok e qui le carte parrebbero confermarmelo quindi qui c'è un desiderio molto molto forte che però non viene come posso dire non viene espresso all'altra persona ed in effetti qui le carte mi parlano di chiusura non chiusura nel senso fine di un rapporto ma non c'è apertura cioè qui c'è uno dei due o magari entrambi che sono chiusi verso l'altro che non stanno comunicando qui tutte le carte mi parlano di silenzio è almeno qui siamo nel presente ora dobbiamo andare a vedere che cosa accadrà a breve fra loro due ma tutte le carte mi parlano di non apertura di chiusura e di silenzio se vuoi anche questo insomma qui nel buio passo dopo passo la cautela insomma eccetera non vede molto bene anche se dentro c'è un forte desiderio magari una voglia di fare o di intraprendere un qualche cosa proprio perché c'è nostalgia e rimpianto l'uno verso l'altra qui non ci sono non ci sono dubbi ok quindi le carte mi stanno parlando sì effettivamente i due si desiderano e tutto quanto però ok sono chiusi l'uno verso l'altra c'è chiusura non c'è apertura in questo momento i due potrebbe pure essere che non si stiano sentendo comunque c'è una chiusura su un qualcosa può essere un'idea una posizione diversa sul rapporto può essere tante cose lo vedremo andando per gradi nel cuore dell'uomo guarda qui c'è la stessa lanterna guarda dell'eremita vedi e nel cuore dell'uomo c'è l'eremita però c'è anche la stella con l'appeso accanto quindi io credo che questa donna sia bene o male o di riffa o di raffa se dice dalle mie parti nel cuore dell'uomo andiamo a vedere che cosa sono questo eremita le stelle l'appeso nel cuore di lui e c'è l'amica fedele come prima carta ok nel cuore di lui l'eremita le stelle l'appeso cosa significa i suoi sentimenti verso di lei cosa significano queste carte amica fedele abbiamo detto le riprendiamo messaggi in arrivo e anima gemella quindi qui sembrerebbero dire sei la mia anima e sei la mia anima gemella ok e se vuoi si ritorna a questa carta degli amanti del presente quindi io credo che quest'uomo dentro di sé il pensiero per lei ce l'abbia e io credo anche che lui stia pensando comunque desiderando di ricevere un messaggio da lei cioè che lei gli fosse amica che non gli fosse ostile e magari gli comunicasse pure se la mia anima gemella ti desidero ancora poi ora con i messaggi andiamo a vedere cosa vorrebbe dirle veramente però qui mi sembra chiaro qui sono carte di interesse di interesse di passione molto forte di pensiero verso questa donna però io credo che nel momento presente le cose siano ferme che i due non si stiano sentendo il suo cuore è tutto diverso da quello oddio lui c'ha l'appeso lei c'ha il diavolo qui qualcosa senz'altro è successa ma mentre lui lo vedo più non resti o come si dice quanto una persona ora non mi fraintendere subisce nel senso subisce gli eventi un pochino più quel quel modo di fare rinunciatario diciamo che è il diavolo è un diavolo questo è incavola nera cioè qui ok può essere arrabbiata rabbiosa gelosa insomma qui c'è un qualcosa anche se anche nello stesso tempo ossessionata comunque dal pensiero di questo uomo non ci dimentichiamo abbiamo visto l'imperatrice con questi rimpianti verso questa persona andiamo a vedere nel cuore di lei diavolo tre di bastoni che cosa significa che cos'è ecco subito ok ci saranno discussioni ed in effetti qui praticamente l'arrabbiatura di lei mi confermerebbero subito il diavolo vedi la rabbia di cui abbiamo di cui abbiamo parlato quindi magari veramente due hanno litigato o comunque sia nel cuore di lei lei lo critica lo accusa lo attacca di un qualche cosa capito e rifletti e valuta bene quindi qui c'è la rabbia di questa donna e la diffidenza c'è non credere più a questo uomo per un motivo x sicuramente qualcosa ha fatto se questa donna non ha più non ha più fiducia di verso di lui non ha più fiducia di lui però ecco qui nel cuore di questo uomo c'è il desiderio quantomeno di risentirla questa donna magari pure di rivederla di rincontrarla cioè anima gemella voglio dire io ora facciamoci la fara ma qui come minimo il desiderio di un messaggio abbiamo visto i messaggi in arrivo e di un incontro lui almeno come desiderio nel suo cuore ce l'ha è lei che arrabbiata nera vedi anche nel cuore qui c'ha proprio la rabbia lei lo accusa di qualcosa sicuramente è molto diffidente quindi sta riflettendo e valutando bene su questo rapporto o comunque su questa persona su questo lui qui il diavolo già ce lo diceva ma anche nelle altre carte se vuoi abbiamo visto no ecco quindi qui questo questo è ciò che è nel cuore di lei quindi la rabbia se vuoi anche il desiderio di dirgliene di dirgliene quattro comunque la situazione un po questa anzi io direi tiriamo anche le parole che i due si direbbero ok e poi andiamo a vedere effettivamente se si smuovono le acque se qualcosa accadrà o se invece il rapporto finisce qua andiamo a vedere allora vediamo lui abbiamo visto che nel suo cuore qui c'è l'eremita le stelle e l'appeso ma abbiamo visto anche i messaggi in arrivo quindi sembra quasi che desideri no parlare con questa donna comunicare anche perché come dicevo secondo me adesso ci potrebbe essere silenzio e se non c'è adesso ci sarà a breve andiamo a vedere lui cosa vorrebbe dire lui a lei lui cosa vorrebbe dire a lei cosa vorrebbe dire lui a lei ti prego non dimenticarmi non ho posto nella mia vita per l'amore adesso quindi è preso da altre infatti guarda guarda gli oracoli cosa ci dicevano qui ci dicevano e non c'è apertura quindi sicuramente vedi non ho posto nella mia vita per l'amore però nello stesso tempo io un qualche desiderio l'ho visto ora andiamo per gradi ma vedi quindi qui sembrerebbe questo uomo aver chiuso una qualche porta nei riguardi di questa di questa donna non ho posto nella mia vita per l'amore adesso però non riesco a starti lontano nonostante gli sforzi quindi qui arrivano dei messaggi un pochino contraddittori a questa donna cioè nello stesso tempo guarda effettivamente qui abbiamo visto nel cuore di lui c'è sia l'amica e l'anima gemella quindi cosa vuoi mi vuoi amica o mi vuoi come la tua compagna come la sua dolce metà cioè fai pace ho il cervello mi verrebbe da dire ma andiamo avanti potessi tornare indietro farei le cose diversamente hai un viso bellissimo il più bello del mondo quindi senz'altro questo un uomo che era e che è molto affascinato dalla tua faccia magari ti faceva complimenti oppure i tuoi occhi che occhi belli che hai mi incanto nei tuoi occhi insomma fammi sapere perché qui c'è una forte attrazione vedi il forte desiderio in special modo per il tuo viso lo so che sei tu la mia metà ed effettivamente qui ci sono gli amanti e qui c'è l'anima gemella vedi quindi io ti capisco se tu sei la donna ti capisco che ti può mandare un pochino un ciampanelle questa questa persona proprio per il modo in cui si pone per il modo in cui ti parla sei tu la mia metà c'è l'anima gemella però ti dice anche non ho posto per l'amore adesso nella mia vita quindi un po' ok vedi anche qua sono qui per stare bene ma non per molto tempo guarda e la mia indipendenza è importante quindi qui c'è un uomo praticamente c'è un uomo che ci desidera moltissimo da una parte ci vede come il desiderio il sogno della sua vita se la mia anima gemella bla 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 dall'altra parte ci vorrebbe come amica fedele che accetta tutto che rimane lì nonostante lui ci dica non ho posto nella mia vita per l'amore in questo momento non è il momento giusto per me c'è vedi c'è questa chiusura nel senso non c'è questa apertura a darci di più o a darci quello che noi desidereremmo magari da lui ok io direi per lei per le parole di lei usiamo l'altro mazzo così non le mischiamo e andiamo a vedere con i messaggi di lui e lei cosa lei vorrebbe dire a questo uomo vediamo un pochino lei come vive tutto questo lei cosa vorrebbe dire a lui nessuno è come te subito così a bomba nessuno è come te ma non sei sincero vedi infatti lei è arrabbiata e abbiamo detto valuta bene molto diffidente vedi su come agire su come fare insomma non non si fida più di tanto ed effettivamente lo incolpa e abbiamo visto che lei lo incolpa di qualcosa lo accusa di qualcosa con queste discussioni che ci sono che ci sono state non sei sincero lo accusa di questo non lo farò più non sappiamo cosa non farò più questo lo saprai tu se sei se sei la donna magari non lo farò più di fidarmi di te o di accettare un qualcosa vediamo ancora cosa vorrebbe dire lei a lui poi fammi sapere tu sai benissimo cosa vorresti dire cosa hai nel cuore meglio di te chi lo sa ok non riesco a perdonarti cioè più chiare di io sì non riesco a perdonarti però vorrei che tu fossi qui con me mi manchi praticamente va bene quindi qui c'è una donna arrabbiata che non riesce a perdonare questo uomo anche perché aggiungo io non le armi ma io qui effettivamente un po' si voglia un po' anche no quindi qui capisco che questa donna effettivamente come minimo come minimo è in confusione cioè ma è normale ok andiamo a vedere voglio tirare per andare a vedere quello che potrebbe esserci andiamo a vedere ancora una carta per lui gratitude la gratitudine dal lato di lui vediamo lei thankful for his life quindi lui è grato a questa donna o comunque è riconoscente cioè il suo pensiero ma l'abbiamo visto è positivo nei confronti della donna lei la piglia a ridere quindi non è che si fidi o che creda a questo uomo più di tanto ok questa è praticamente la base però ecco vedo lei rancorosa e diffidente nei confronti di lui lui no lui sarebbe pure aperto però è anche chiuso come dire io l'amore ora no tu sei una grandonna ti adoro mi piace da morire però bla bla ma andiamo a vedere vediamo le azioni di lui lui cosa farà verso di lei le sue prossime mosse diciamo andiamo a vedere lui a queste sono addirittura due la regina di bastoni e fante di denaro non so se mi sono cascato sì ma è uguale ok qui è uscita proprio la donna questo è uscita proprio tu io vedo se in questa figura eccola la il re di spade come parlano i miei tarocchi ragazze sono meravigliosi il re di spade la regina di bastoni e il fante di denari eccolo la allora questo effettivamente un uomo tutto d'un pezzo un uomo di ferro nel senso che insomma mi spezzo ma non mi piego uno molto ligio alle sue idee eccetera ma è un uomo anche effettivamente qui come vedo ti prego non dimenticarmi non mi dimenticare bla 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 però non ho tempo per l'amore nella mia vita in questo momento ecco io credo che qui ci potrebbe essere come mossa qui o una telefonata da parte di lui o un messaggio qui potresti veramente ricevere una notizia da parte di questo di questo uomo andiamo a vedere cos'altro andiamo a vedere cosa se se è il 2 di spade guarda faccio finta di non averlo visto non ho visto vai o andiamo a vedere sì sì dai prendo solo questa il fante di il fante di coppe ma io credo che qui come mosse di lui a breve insomma nel prossimo futuro come ti ho detto non ho dato i tempi quindi praticamente dal momento in cui vedrai questo video non credo che tu debba aspettare poi troppo io credo che questo signore si rifaccia vivo questa verso questa donna perché una donna di cui lui astima la vede proprio una donna di un certo tipo anche una donna amica una donna disponibile magari sempre disponibile che pensa a lui a passionale sicuramente una donna che che si sbatte che fa una che sa far tutto cioè capito una donna ad un certo tipo non la vede come una messa lì da trascorrerci due ore e poi arrivederci se ci siamo capiti no 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 però è un re di spade quindi un uomo effettivamente non si vuole legare anche se dei sentimenti potrebbe nutrirli nei confronti di lei ma vediamo lei vediamo se lei farà qualcosa verso di lui lei le azioni di lei nei confronti di lui qui è uscito il quattro di bastoni il carro il cavaliere di spade il sette di bastoni vedi anche qui si vede che parlano c'è proprio il parlare di queste due persone e la ruota della fortuna quindi le cose che riprendono a girare guarda sotto volendo il re di coppe e il re di denari quindi li abbiamo visti praticamente tutti ma lei che farà io credo che nonostante la sua rabbia che senz'altro non mancherà di manifestare quindi io credo che qui lei potrebbe veramente far presente a lui tutta la rabbia che ha non credo si terrà niente dentro ma io credo che lui e lei riavranno nuovamente a che fare parleranno di nuovo insieme sicuramente lei è troppo buona troppo buona troppo brava troppo bella lui ha un testone c'è un testone nel senso va avanti ho la sua idea anche se dice in un modo non ho tempo per l'amore però non ti voglio perdere poi parole ecco quindi è lì che nasce e lei la vedo di battuta arrabbiata proprio per questo motivo perché come dire io ragazzi come faccia sta così non so se mi spiego andiamo a vedere quindi questa situazione come io credo che lui si rifaccia vivo con lei la richiamerà la ricercherà in un qualche modo e i due si potrebbero pure rivedere rivedere vediamo appunto lo sviluppo di questa situazione come si svilupperà quindi fra loro due poi parole cosa accadrà fra lei e lei il 10 di denari cosa accadrà fra lui e lei lo sviluppo di questa situazione quale sarà la forza 10 di denari forza la regina di coppe che mi è uscita guarda come bella sta regina di coppe è meravigliosa non è bellissima mi è uscita però capovolta quindi una donna e ben o male sta soffrendo per questa situazione il fante di spade e il cavaliere di denari ma qui praticamente c'è un uomo che senz'altro si rifarà vivo con lei queste po ma seuro ok però potrebbe essere un uomo che di nuovo le offre la sua amicizia cioè amicizia intima capiscimi bene cioè voglio dire io cioè un'amicizia ad un certo tipo ci siamo capite ecco siamo tutti adulti però lei vuole di più lei vuole la casa lei vuole la casa la stabilità la famiglia o non ti voglio di la famiglia dipende quanti anni hai chi sei bla bla situazione ma insomma per dire lei vuole più stabilità lui è un re di spade quindi qui ecco però quello che vedo accadere come ti stavo dicendo qui c'è un lui che si rifarà avanti nei confronti di lei sicuramente per riconquistarla perché c'è un lei però che non si sente amata come vorrebbe eccola la la regina di coppe però mi è uscita capovolta quindi qui c'è sicuramente una donna che non si sente amata come invece lei desidererebbe come vorrebbe però io credo che nonostante tutto lei di non glielo dia quando questo uomo si rifarà vivo andiamo a vedere quindi vediamo lo sviluppo chiediamo agli oracoli prima ad andare avanti cosa significano queste carte vediamo le azioni di lui ho visto le azioni di lui che cosa sono quel re di spade regina di bastoni fante di denari due di spade fante di coppe migliorite le azioni di lui favore le azioni di lui che vuol dire che farà questo uomo cosa farà che c'è scritto ci sarà un nuovo inizio cioè sono talmente chiare quindi qui c'è questa proposta c'è questo poi già il fantino di coppe anche lì ce lo diceva ce lo diceva in modo chiaro e non solo naturalmente quindi qui c'è un lui che secondo me si fa avanti e potrebbe riproporre un nuovo inizio o comunque come vi ho detto no che mi spiegano il gesto di lui qui c'è un lui che torna bambine un lui che torna dal passato magari una persona che non stai ne vedendo ne sentendo da molto tempo qui c'è il ritorno di questa persona per un nuovo inizio ok vediamo le carte di lei nel comportamento nelle azioni di lei che cosa significano e lei con quel 10 di denari la forza alla regina di coppe ok uscite e divertimenti in compagnia la bellezza e l'intelligenza creatrice questa sei tu con una mente veramente meravigliosa rigogliosa piena di idee di vita che però non si sente considerata guarda mi confermano proprio no mi confermano questa regina di coppe che uscita capovolta guarda guarda qui che testa di fiori guarda che donna che sei guarda come sei meravigliosa stupenda guarda come sei che donna che sei ok quindi qui questa donna meravigliosa benissimo potrebbe pure accettare tutto quanto però ok qui senz'altro lei accetta perché io la vedo accettare e quindi qui figurativamente qui mi dicono il divertimento in compagnia nel senso qui possiamo senz'altro stare bene passare dei momenti felici gioiosi allegri pieni di passione insieme tutto quello che ti pare però non mi sento considerata non mi sento apprezzata abbastanza mentalmente io credo che qui ci sia una donna che potrebbe sentirsi si desiderata ed apprezzata tantissimo però a livello fisico quindi qui ci può essere una donna che a livello mentale siccome qui di mente c'è ce n'è parecchia di testa che non si sente apprezzata abbastanza non come donna completa non so come meglio dire non ci si sente considerati abbastanza ok andiamo a vedere con i nostri tarocchi come si sviluppa stavo dicendo questa situazione vediamo che succede poi alla fine come va a finire sta storia qui vedi ci sarà un nuovo inizio di qua qui c'è il divertimento e tutto quindi qui lei ci sta a questo nuovo inizio ok però non si sente considerata abbastanza per come vorrebbe praticamente questa è una regina di coppe meravigliosa è un peccato allora vediamo come si svilupperà veniamo fra questi due il re di denari e questo è proprio lui il re di denari il 3 di coppe il re di denari dicevamo il 3 di coppe re di denari 3 di coppe 8 di denari eccola la vediamo il taglio la luna allora qui senz'altro c'è un qualcosa che non ti torna non ti torna a te o entrambi insomma qui un po di confusione c'è c'è un qualcosa di poco chiaro un qualcosa che non ci sconfinfera ma anche molte molte cose non chiarite non totalmente fatto sta che qui lo sviluppo come va a finire benissimo con un re di denari un 3 di coppe e un 8 di denari quindi qui sicuramente fra i due c'è attrazione a vagoni e non avevamo dubbi ci sarà un nuovo inizio fra queste due persone e scatterà nascerà arriverà verrà da lui da parte di lui è lui che va a smuovere tutto non per nulla gli dice dice a lei le dice non dimenticarmi va bene c'è un forte desiderio però ce l'ha anche l'esto desiderio qui ci sono due persone che si desiderano si desiderano fortemente quindi qui ci sarà uno sviluppo inatteso io credo che questo uomo ti ricontatterà cioè qui si passa praticamente da una non apertura da una nuova che c'è permane nel senso che lui le dice io più di lì non voglio andare ok voglio andare però qui c'è molta molta attrazione se vuoi anche mentale fra le due fra le due persone quindi qui ci sarà un nuovo inizio sicuramente vi ritroverete passerete dei momenti magici insieme questo siti ci metto la firma sotto ok perché perché c'è molto desiderio molta attrazione fra le due persone qui c'è proprio la voglia il desiderio di vivere insieme momenti allegri felici di passione dispensieratezza vediamo cosa hanno da aggiungere i miei oracoli su queste tre carte del futuro re di denari 3 di coppe 8 di denari che cosa significa no cosa significa no no ora era uscita così come schizzata dopo incontro di passione guarda cioè ve le devo spiegare quelle qua il re di denari con il 3 di coppe mi pare abbastanza chiaro l'otto di denari il risultato eccola là incontro di passione che significa anche che le due persone torneranno vedi qui c'erano gli amanti all'inizio ok torneranno a frequentarsi torneranno a rivedersi qui c'è un incontro un messaggio una ripresa ci sarà un nuovo inizio e l'incontro di passione quindi questa è una storia io non so a che punto sei perché qui nel taglio mi dicevano che la situazione è pesante vedi c'è una situazione pesantuccia in questo momento però questo re io lo vedo tornare lo vedo tornare perché anche un'emozione a un sentimento nei tuoi confronti magari non vuole tutta questa responsabilità tutta questa pesantezza però qui insomma è qui qui c'è ragazzi qui c'è la voglia il desiderio di stare insieme c'è sicuramente da entrambe le parti ed è quello che accadrà tiriamo un'altra carta ma sono chiarissime fra lui fra lui e lei guarda pace e armonia saranno ristabilite più chiare di così quindi qui è un desiderio che avete entrambi di far pace insomma poi traducetelo voi per la vostra situazione nel senso riprendere a vedersi riprendere a contattarsi fare pace anche perché le arrabbiatissime comunque va bene ok quindi qui fammi sapere quello che accadrà ma qui c'è proprio un far pace un riprendere un riprendere il discorso fra queste due tra queste due persone andiamo a vedere cos'altro ci dicono le carte fra lui e lei vediamo i segni zodiacali e quant'altro ok qui c'è guarda come sono belle queste carte qui c'è il segno del capricorno la vergine vediamo i segni zodiacali il segno della bilancia qui ci potrebbe essere anche il lavoro è galeotto fatemi sapere magari lavorate insieme o in un luogo insomma c'è il lavoro che potrebbe legarvi in un qualche modo quindi fatemi fatemi sapere allora qui la bilancia e il capricorno sono subito confermate poi ci sono anche l'ariete e il cancro il toro e la vergine riconfermata segno del leone capricorno confermato tre volte ragazze quindi il capricorno e non mi meraviglio perché c'è venere eppure marte in capricorno a breve quindi non mi meraviglio segno del cancro non mi ricordo se ve l'ho già detto se ve l'ho detto ve lo ripeto si ve l'ho detto ve lo confermo ok è il segno dello scorpione aggiungiamo ok andiamo a tirare a questo punto i numerini diamo qualche numerino qualche letterina poi mi dite un pochino chi o cosa ci si ritrovate fatemi sapere allora andiamo a vedere ok questa me la voglio mettere qui perché è troppo bella ci sarà un nuovo inizio ricordatelo bene allora letterina e numeri vediamo qui giochiamo un po' giochiamo un po' andiamo a vedere andiamo a vedere la d di domodossola subito così a bomba d di domodossola la e aiuto la e di empoli la y di york la m la m di milano la u di udine poi il numero 0 il 4 numero 2 aiuto numero 2 e il numero 6 o il 9 insomma dipende come lo vuoi vedere se come numero 9 o come numero 6 ok quindi vedi un po' una data una targa un numero di telefono insomma questo lo saprei tu no stavo facendo caso guarda che carte mi sono cadute tutte e due pelle molto simili quindi sia quella di anima gemella sia quella di incontro di passione ok ci sarà un nuovo inizio quindi il discorso qui non è chiuso affatto fammi sapere poi quindi che cosa che cosa ti accadrà mi raccomando aggiornami un bacione al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.